Il sol infinito e altri... Ahia... Eh? Dammato di vanno! Ahia... Ah, lo zoom! Il caricamento di un mio video! E' da zoom! E' FNAF i mates! Basta la mia chiesa! Basta la mia carriera per i bambini! E' finita! Adesso c'è FNAF! Poi FNAC! Tranne quello di Roblox per i 10 like! Ciao, ciao! Cosa? Ci vuole molto lavoro per usare un video... Solta... Verso l'infinito e oltre! Aiuto! Ce l'ho fatta! Sono il più bravo! Volante del mondo! Sono un volante! Che cos'è questo? Volevole! Nonono! Nonono! Nononono! Nonono! Nonono! Ciao! ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ciao